Testimone inconsapevole, scritto e letto da Gianrico Carofiglio. Parte prima. Uno. Ricordo molto bene il giorno prima, anzi il pomeriggio prima che tutto cominciasse. Ero arrivato in studio da un quarto d'ora e non avevo nessuna voglia di lavorare. Avevo già controllato la posta elettronica, la posta cartacea, riordinato qualche carta fuori posto, fatto un paio di telefonate inutili. Quindi, insomma, avevo esaurito tutti i pretesti e quindi mi ero acceso una sigaretta. Adesso mi godo tranquillamente la sigaretta e poi comincio. Finita la sigaretta avrei trovato qualcos'altro. Magari sarei sceso ricordandomi di un certo libro che dovevo andare a prendere da Feltrinelli e, insomma, avevo rinviato troppe volte. Mentre fumavo squillo il telefono. Era la linea interna, la mia segretaria dell'anticamera. C'era un signore che non aveva appuntamento, ma diceva che era urgente. Quasi nessuno ha mai appuntamento. La gente va dall'avvocato penalista quando ha problemi seri e urgenti o è convinta di averli, il che è ovviamente lo stesso. In ogni caso, nel mio studio funzionava così. La mia segretaria mi chiamava in presenza del signore o della signora che aveva urgente bisogno di parlare con l'avvocato. Se ero impegnato, per esempio con un altro cliente, facevo aspettare fin quando non finivo. Se non ero impegnato, come quel pomeriggio, facevo aspettare lo stesso. Sia chiaro che in questo studio si lavora e la ricevo solo perché è una cosa urgente. Dissi a Maria Teresa di comunicare al signore che avrei potuto riceverlo fra dieci minuti, ma non avrei avuto molto tempo da dedicarli, perché dopo avevo una riunione importante. Gli avvocati, pensa la gente, hanno spesso riunioni importanti. Dieci minuti dopo il signore entrò. Aveva i capelli lunghi, neri, la barba lunga, nera e gli occhi sbarrati. Si sedette e si appoggiò sulla scrivania, protendendosi verso di me. Per un attimo fui certo che dicesse «Ho appena ucciso mia moglie e mia suocera. Sono giù in macchina nel bagagliaio. Fortunatamente ho una station wagon. Che dobbiamo fare adesso, avvocato?» Non disse così. Aveva un camper su cui arrostiva wuster e hamburger. Gli ispettori della ASL lo avevano sequestrato perché le condizioni igieniche erano più o meno quelle delle fogne di Benares. Il barbuto rivoleva indietro il suo camper. Sapeva che era un bravo avvocato perché glielo aveva detto un suo amico, che era mio cliente. Con una specie di schifoso sorriso d'intesa disse il nome di uno spacciatore per il quale ero riuscito a patteggiare una pena vergognosamente bassa. Gli chiesi un anticipo spropositato e lui tirò fuori dalla tasca dei pantaloni un rotolo di banconotte da cento e da cinquanta. «Non mi dia quelli con le macchie di maionese, per piacere», pensai rassegnato. Lui contò fra indice e pollice la somma che gli avevo chiesto. Mi lasciò il verbale di sequestro e tutte le altre carte. «No, non voleva la ricevuta. E che me ne faccio, avvocato?» Altro sorriso d'intesa. «Certo, fra noi evasori fiscali ci intendiamo». Anni prima il mio lavoro mi piaceva abbastanza. Adesso invece mi dava un vago senso di nausea. Quando poi incontravo soggetti come il venditore di hamburger, la nausea aumentava. Pensai che meritavo una cena con i wuster del signor Rasputin e poi di finire al pronto soccorso. Lì avrei trovato ad attendermi il dottor Carrassi. Il dottor Carrassi, aiuto primario del pronto soccorso, aveva fatto morire una ragazza di 21 anni con la peritonite, dicendo che erano dolori mestruali. Il suo avvocato, io, lo aveva fatto assolvere senza fargli perdere nemmeno un giorno di servizio e una lira di stipendio. Non era stato un processo difficile. Il pubblico ministero era una idiota e l'avvocato di parte civile, un'analfabeta terminale, Quando fu assolto, Carrassi mi abbracciò. Aveva l'alito pesante, era accaldato e pensava che fosse stata fatta giustizia. Uscendo dall'aula, avevo evitato lo sguardo dei genitori della ragazza. Il barbuto andò via e io, soffocando la nausea, preparai il ricorso contro il sequestro del suo pregevole ristorante mobile. Poi andai a casa. Il venerdì sera, di regola, andavamo al cinema e poi a cena, sempre con lo stesso gruppo di amici. Non partecipavo mai alla scelta del cinema e del ristorante. Facevo quello che decidevano Sara e gli altri e passavo la serata in apnea, aspettando che finisse. Era diverso solo quando capitava un film che mi piacesse davvero, ma era una eventualità sempre più rara. Quel venerdì, quando rientrai, Sara era già pronta per uscire. Dissi che avevo bisogno di almeno un quarto d'ora, il tempo di fare una doccia e cambiarmi. Ah, lei usciva con i suoi amici. Quali amici? Quelli del corso di fotografia. Poteva dirmelo prima che mi sarei organizzato. Me lo aveva detto da ieri e non poteva farci niente se non ascoltavo quando parlava. Va bene. Non c'era bisogno di arrabbiarsi. Avrei visto di combinare qualcosa per conto mio, se avessi fatto in tempo. No. Non avevo nessuna intenzione di farla sentire in colpa. Volevo dire solo ed esattamente quello che avevo detto. Va bene. Era meglio chiudere la discussione. Lei uscì e io rimasi a casa. Pensai di chiamare i soliti amici e di uscire con loro. Poi mi sembrò assurdamente difficile spiegare perché Sara non c'era e dove era andata e pensai che mi avrebbero guardato con aria strana e, insomma, lasciai stare. Provai a chiamare una mia amica con cui qualche volta mi vedevo clandestinamente in quel periodo ma lei mi disse parlando sottovoce al cellulare che era con il fidanzato che mi aspettavo di venerdì. Mi sentii a disagio e allora pensai che noleggiavo un bel film poliziesco, tiravo fuori una pizza surgelata, una birra grande, fredda, e in un modo o nell'altro quel venerdì sera sarebbe passato. Presi Black Rain anche se l'avevo già visto due volte. Lo rividi per la terza e mi piacque ancora. Mangiai la pizza, bevi tutta la birra, poi bevi anche un whisky e fumai diverse sigarette. Mi feci un giro di canali scoprendo che sulle televisioni locali avevano ripreso a dare i film hard. questo mi fece notare che era luna passata e così andai a dormire. Non so quando mi addormentai e non so quando Sara rientrò perché non la sentii. La mattina dopo mi svegliai che lei si era già alzata. Entrai in cucina con la faccia del sonno e lei, senza dire niente, mi versò una tazza di caffè americano. Il caffè americano lungo era sempre piaciuto a tutti e due. Bevvi due sorsi e stavo per domandarle a che ora fosse rientrata la notte prima quando mi disse che voleva la separazione. Disse così semplicemente «Guido, voglio che ci separiamo». Dopo molti secondi di silenzio assordante fui costretto alla domanda più banale «Perché?». Me lo disse il perché. Fu calma e implacabile. Forse pensavo che non si fosse accorta di come era stata la mia vita degli ultimi, diciamo, almeno due anni. Invece se n'era accorta e non le era piaciuta. Quello che l'aveva più umiliata non era la mia infedeltà. Quella parola mi colpì in faccia come uno sputo, ma il fatto che le avessi veramente mancato di rispetto trattandola come fosse una stupida. Lei non sapeva se ero sempre stato così o se lo ero diventato. Non sapeva quale ipotesi preferire e forse non gliene importava nemmeno. Mi stava dicendo che ero diventato un uomo mediocre o che forse lo ero sempre stato. E lei non aveva voglia di vivere con un uomo mediocre. Non più. Davvero uomo mediocre, non trovai niente di meglio che chiederle se aveva un altro. Lei rispose semplicemente di no e che comunque, da quel momento, non erano più affari miei. Giusto. La conversazione non proseguì a lungo e dieci giorni dopo ero fuori di casa. Due. Dunque fui civilmente cacciato di casa e la mia vita cambiò. Non in meglio, anche se non me ne resi conto subito. Per i primi mesi, anzi, ebbi una sensazione di sollievo e un sentimento quasi di gratitudine nei confronti di Sara. Per il coraggio che aveva avuto è che a me era sempre mancato. Insomma, mi aveva tolto le castagne dal fuoco, come si usa dire. Avevo pensato tante volte che quella situazione non poteva durare e che dovevo fare qualcosa. Dovevo prendere un'iniziativa, trovare una soluzione, parlarle onestamente, fare qualcosa. Però, siccome ero un vigliacco, non avevo fatto niente a parte afferrare le occasioni clandestine che mi erano capitate. Certo, se ci pensavo, le cose che mi aveva detto quella mattina mi bruciavano. Mi aveva trattato da mediocre e da piccolo vigliacco e io avevo subito senza reagire. Ecco, nei giorni successivi a quel sabato, anzi, quando già ero andato a stare nella mia nuova casa, pensai più volte a quello che avrei potuto rispondere, insomma, per mantenere un po' di dignità. Mi venivano in mente frasi del tipo «Non voglio negare le mie responsabilità, ma ricordati che le colpe non sono mai tutte da una sola parte » cosa stava facendo, a con chi si trovava. Ero molto bravo ad anestetizzare queste fitte e a farle sparire rapidamente. Le ricacciavo là dentro da dove erano venute, anzi, più in profondità, più nascoste. Per qualche mese feci una vita senza regole, da single di prima nomina, una cosiddetta vita brillante. frequentavo compagnie improbabili partecipando a feste insulse, bevendo troppo, fumando troppo, eccetera. Uscivo tutte le sere, rimanere solo a casa era un'idea insopportabile. Ebbi alcune fidanzate, naturalmente. Non ricordo una sola conversazione avuta con una sola di queste ragazze. In mezzo a tutto questo, si tenne l'udienza per l'omologa della separazione consensuale. non ci furono problemi. Sara era rimasta nella casa, che era sua. Io avevo cercato di tenere un atteggiamento dignitoso, rifiutando di portare via mobili, elettrodomestici, insomma, qualsiasi cosa non fossero i miei libri, e nemmeno tutti. Ci incontrammo nell'anticamera del presidente del tribunale, che si occupava delle separazioni. Era la prima volta che la vedevo, da quando ero andato via di casa. Aveva tagliato i capelli, era un po' abbronzata, e io pensai a dove poteva essersi abbronzata e con chi potesse essere andata ad abbronzarsi. Non fu un pensiero piacevole. Prima che potessi dire nulla, lei si avvicinò e mi diede un bacio leggero sulla guancia. Questo, più di ogni altra cosa, mi diede la sensazione dell'irrimediabile. A 38 anni appena compiuti, stavo scoprendo per la prima volta che le cose finiscono davvero. Il presidente cercò di farci riconciliare, come gli imponeva la legge. Noi fummo molto educati e civili. Parlò poco, solo lei. Avevamo deciso, disse. Era un passo che facevamo con rispetto reciproco, serenamente. Io stavo zitto, annuivo, e in quel film mi sentivo l'attore non protagonista. tutto finì molto rapidamente visto che non c'erano problemi di soldi, di case, di bambini. Una volta fuori dalla stanza del giudice, di nuovo lei mi diede un bacio, quasi sull'angolo della bocca questa volta. Ciao, disse. Ciao, dissi, quando lei già si era girata e andava via. Ciao, dissi di nuovo al niente dopo aver fumato una sigaretta appoggiato al muro. me ne andai quando mi accorsi degli sguardi degli impiegati che passavano. Fuori era primavera. 3 La primavera si trasformò rapidamente in estate, ma i giorni scorrevano sempre tutti uguali. Anche le notti erano tutte uguali. Buie. Fino ad una mattina di giugno. Ero in ascensore di ritorno dal tribunale e salivo al mio studio all'ottavo piano quando, d'improvviso e senza una ragione, fui assalito dal panico. Uscito dall'ascensore, rimasi sul pianerottolo per un tempo indefinito, col respiro affannoso, sudori freddi, nausea, lo sguardo fisso su un estintore. È una paura terribile. Sta bene, avvocato? Il tono del signor Stresciuglio, impiegato delle finanze in pensione, inquilino dell'altro appartamento al piano, era un po' perplesso, un po' preoccupato. Sto bene, grazie, sono completamente fuori di testa ma non credo che questo sia un problema. Lei come sta? Non è vero. Dissi che avevo avuto un leggero capogiro ma che adesso era tutto a posto. Grazie, buongiorno. Naturalmente non era tutto a posto. Come avrei capito fin troppo bene nei giorni e nei mesi successivi. Prima di tutto, non sapendo cosa mi fosse capitato quella mattina in ascensore, cominciai ad essere ossessionato dall'idea che potesse succedere di nuovo. Così smisi di prendere l'ascensore. Fu una scelta stupida che contribuì ad aggravare le cose. Dopo qualche giorno, invece di stare meglio, cominciai a temere che il panico potesse assalirmi dappertutto e in qualsiasi momento. Quando mi fui preoccupato abbastanza, riuscii a farmi venire un nuovo attacco per strada questa volta. Fu meno violento del primo, ma gli effetti nei giorni successivi furono ancora più devastanti. Per almeno un mese vissi nel terrore costante di essere colpito di nuovo dal panico. È buffo a ripensarci adesso. Vivevo nella paura di essere assalito dalla paura. Pensavo che quando mi fosse ricapitato sarei potuto impazzire ed eventualmente anche morire. morire pazzo. Questo mi fece ricordare con sgomento superstizioso un fatto successo molti anni prima. Ero all'università e avevo ricevuto una lettera scritta su un foglio a quadretti con grafia rotonda e quasi infantile. Caro amico, dopo aver letto questa lettera, fanne dieci copie di tuo pugno e spediscile a dieci amici. Questa è la vera catena di Sant'Antonio. se la farai proseguire nella tua vita entreranno fortuna, denaro, amore, serenità e gioia. Se la interromperai potranno accaderti orribili sventure. Una giovane sposa che da due anni desiderava un figlio senza riuscire a rimanere incinta ricopiò la lettera e la spedì a dieci amici. Tre giorni dopo seppe di essere in dolce attesa. Un umile impiegato delle poste ricopiò la lettera la spedì a dieci fra amici e parenti e una settimana dopo vinse una grossa somma al gioco dell'otto. Un professore di liceo, invece, ricevuta questa lettera, ne rise e la strappò. Pochi giorni dopo ebbe un incidente, si spezzò una gamba e inoltre fu sfrattato da casa. Una casalinga ricevette la lettera e decise di non rompere la catena. Purtroppo però smarrì la lettera e di fatto ruppe la catena. Si ammalò di meningite dopo pochi giorni e pur se guarita rimase invalida per tutta la vita. Un medico ricevuta la lettera la strappò esclamando con tono sprezzante che non bisognava credere a simili superstizioni. Nei mesi successivi fu licenziato dalla clinica in cui lavorava, fu abbandonato dalla moglie, si ammalò e infine morì pazzo. Non interrompere la catena. Lessi la lettera ai miei amici che la trovarono esilarante. Quando si furono ripresi dalle risate mi chiesero se intendevo strapparla e morire pazzo. O mettermi diligentemente a fare le dieci copie in bella grafia, cosa che non avrebbero mancato di ricordarmi, con poco garbo presumo, almeno per i successivi dieci anni. Ciò mi diede sui nervi. Pensai che non sarebbero stati così illuministi se la lettera fosse arrivata a loro e dissi che ovviamente l'avrei strappata. Quelli pretesero che lo facessi davanti a loro insinuarono che potessi ripensarci e lontano da occhi indiscreti potessi fare le famose dieci copie eccetera eccetera. Insomma, fui costretto a strapparla e quando ebbe finito il più spiritoso dei tre disse che comunque non dovevo preoccuparmi. Al momento opportuno sarebbe stata a loro premura farmi ricoverare in un manicomio accogliente. Più o meno diciotto anni dopo mi sarei ritrovato a pensare seriamente che la profezia si stava avverando. In ogni caso la paura di avere un nuovo attacco di panico e di impazzire non era il mio unico problema. Cominciai a soffrire di insonnia. Passavo le notti quasi completamente in bianco addormentandomi solo poco prima dell'alba. Qualche rara volta prendevo sonno in orari più normali. In questi casi però mi svegliavo immancabilmente due ore dopo e non potevo restare a letto. Se ci provavo venivo assalito da pensieri tristissimi insopportabili su come avevo sprecato la mia vita sulla mia infanzia e su Sara. Allora ero costretto ad alzarmi e vagavo nel mio appartamento. Fumavo bevevo guardavo la televisione accendevo il cellulare nell'assurda speranza che qualcuno mi chiamasse nel cuore della notte. Cominciai a preoccuparmi che la gente si accorgesse delle mie condizioni. soprattutto cominciai a preoccuparmi di poter perdere il controllo in queste condizioni trascorsi tutta l'estate. Quando arrivò agosto non trovai nessuno che partisse con me per la verità non lo cercai e non ebbi il coraggio di partire da solo. Così vagabondai facendomi ospitare per le ville e i trulli di amici al mare o in campagna. Escludo di essermi guadagnato molte simpatie durante questi vagabondaggi. La gente mi chiedeva se ero un po' giù e io dicevo che sì un pochino e di solito la conversazione non durava molto a lungo. Dopo qualche giorno capivo che era il momento di fare le valigie e trovare un altro rifugio cercando il più possibile di evitare il rientro in città. A settembre visto che le cose non miglioravano e in particolare che non ce la facevo più a passare le notti in bianco andai dal mio medico che poi era anche un mio amico. Volevo qualcosa per dormire. lui mi visitò mi fece parlare dei miei sintomi misurò la pressione guardò negli occhi con una lampadina mi fece fare degli esercizi un po' dementi di equilibrio e alla fine disse che avrei fatto meglio a farmi vedere da uno specialista. che vuoi dire scusa che specialista beh uno specialista di questi problemi quali problemi dammi qualcosa per dormire facciamola finita Guido la situazione è un po' più complessa hai un'aria molto tirata non mi piace il modo in cui ti guardi attorno non mi piace come ti muovi non mi piace come respiri io devo dirtelo tu non stai bene devi farti vedere da uno specialista vuoi dire uno avevo la bocca secca per la testa mi passavano pensieri sconnessi forse vuol dire che devo farmi vedere da un internista o da un omeopata un massoterapeuta anche un ayurvedico ah va bene se devo andare da un internista massoterapeuta ayurvedico omeopata e vaffanculo non c'è problema ci vado non mi sottraggo mica le cure io mica ho paura perché uno psichiatra hai detto uno psichiatra mi veniva da piangere ero diventato pazzo adesso lo diceva anche un medico la profezia si stava avverando gli dissi che va bene per ora poteva darmi un maledetto sonnifero poi ci avrei pensato su che si va bene non avevo nessuna intenzione di sottovalutare il problema ci vediamo no no non c'è bisogno che mi indichi uno bocca secchissima uno di quelli ti richiamo e me lo dici scappai via evitando di prendere l'ascensore quattro il mio medico aveva accettato di prescrivermi qualcosa per dormire e con quelle pillole la situazione sembrò migliorare un poco l'umore era sempre grigio topo ma almeno non mi trascinavo distrutto dall'insonnia come uno spettro in ogni caso la mia produttività sul lavoro e la mia affidabilità professionale erano pericolosamente sotto il livello di guardia c'erano diverse persone la cui libertà dipendeva dal mio lavoro e dalla mia concentrazione suppongo che avrebbero trovato interessante scoprire che trascorrevo i pomeriggi sfogliando distrattamente i loro fascicoli che di loro e del contenuto di quei fascicoli non poteva importarmi meno che andavo in udienza del tutto impreparato che l'esito dei processi era affidato praticamente al caso e che insomma il loro destino era nelle mani di un irresponsabile psichicamente disturbato quando ero costretto a ricevere la situazione era surreale i clienti parlavano io non ascoltavo una parola ma facevo sì con la testa loro continuavano a parlare rassicurati alla fine stringevo loro la mano con un sorriso di comprensione sembravano apprezzare che l'avvocato li avesse lasciati sfogare così senza interrompere che evidentemente avesse compreso il loro problema e le loro esigenze ero proprio una brava persona fu il commento fatto con la mia segretaria da una pensionata che voleva querelare il vicino che le metteva biglietti o sceni nella cassetta delle lettere non sembravo neanche un avvocato disse era vero loro erano soddisfatti e io nel migliore dei casi avevo solo una vaga idea del problema insieme procedevamo verso la catastrofe fu in questa fase dopo essere riuscito a dormire per qualche notte che intervenne un fatto nuovo cominciò a venirmi da piangere all'inizio succedeva a casa la sera appena rientrato o la mattina al momento di alzarmi poi fuori di casa camminavo per strada i miei pensieri se ne andavano via senza controllo e mi veniva da piangere riuscivo a controllare la situazione però sia a casa che soprattutto per strada anche se ogni volta era un po' più difficile mi concentravo sulle mie scarpe o sulle targhe delle macchine e soprattutto evitavo di guardare in faccia i passanti che ne ero convinto si sarebbero accorti di quello che mi stava succedendo alla fine mi capitò in studio era un pomeriggio e parlavo di qualcosa con la mia segretaria quando sentii le lacrime arrivare e una sensazione dolorosa in gola cominciai a fissare ottusamente una piccola macchia di umidità sul muro e intanto rispondevo con cenni del capo terrorizzato che Maria Teresa capisse cosa stava succedendo effettivamente capì benissimo si ricordò ad un tratto che doveva fare delle fotocopie e con molto garbo uscì dalla stanza passò solo qualche secondo scoppiai a piangere e non smisi tanto facilmente pensai che non era il caso di aspettare che il fenomeno si ripetesse per esempio durante un processo il giorno dopo chiamai il mio medico e mi feci dare il nome di quello specialista 5 lo psichiatra era alto massiccio imponente con la barba e mani come badili me lo immaginai mentre immobilizzava a ceffoni un pazzo scatenato e gli metteva la camicia di forza fu abbastanza gentile considerate la barba e la mole mi fece raccontare tutto e faceva sì con la testa questo mi parve rassicurante poi pensai che anch'io facevo sì con la testa quando i clienti parlavano e mi sentii meno rassicurato comunque disse che soffrivo di una forma particolare di disturbo dell'adattamento la separazione aveva funzionato nella mia psiche come una bomba ad orologeria e a un certo punto aveva prodotto un effetto di rottura anzi una serie di rotture a catena avevo fatto male a trascurare il problema per tanti mesi c'era stata una degenerazione del disturbo di adattamento che rischiava di trasformarsi in una depressione di media severità queste situazioni non andavano sottovalutate non dovevo preoccuparmi però perché il fatto di essere andato dallo psichiatra costituiva un segno positivo di autoconsapevolezza e una premessa per guarire certo era necessario un trattamento farmacologico ma insomma nel giro di qualche mese la situazione sarebbe migliorata decisamente pausa e sguardo intenso doveva far parte della terapia poi si mise a scrivere riempiendo una pagina di ricettario con nomi di ansiolitici e antidepressivi dovevo prendere quella roba per due mesi dovevo cercare di distrarmi dovevo evitare di rimuginare su me stesso dovevo cercare di cogliere gli aspetti positivi delle cose evitando di pensare che la mia situazione fosse senza sbocco dovevo dargli 300.000 di ricevuta non parliamone ci vediamo di qui a due mesi per il controllo salutandomi sulla porta mi sconsigliò di leggere i foglietti illustrativi dei farmaci era un vero conoscitore della psiche umana cercai una farmacia lontana dal centro per non fare incontri volevo evitare che davanti a qualche mio cliente o a qualche mio collega il farmacista gridasse al commesso nel retro frasi del tipo controlla nell'armadio degli psicofarmaci se abbiamo il valium psichiatrico extraforte per questo signore dopo aver girato un po' in macchina scelsi una farmacia del rione Iapigia ai confini della città la farmacista era una ragazza ossuta dall'aria poco socievole e le diedi la ricetta senza guardarla in faccia mi sentivo a mio agio come un seminarista in un porno shop la farmacista ossuta stava già facendo il conto quando recitai la parte che avevo preparato già che ci sono prendo anche una cosa per me della vitamina C effervescente mi guardò un secondo senza dire niente conosceva il copione poi mi diede la vitamina C assieme a tutto il resto pagai e scappai come un ladro arrivato a casa scartai aprì le scatole e lessi i foglietti illustrativi dei medicinali erano tutti interessanti ma la mia attenzione fu attratta in modo ipnotico dagli effetti collaterali dell'antidepressivo il trittico a base di trazodone si cominciava da semplici vertigini per passare rapidamente a secchezza delle fauci visione confusa stipsi ritenzione urinaria tremori e alterazione della libido pensai che per l'alterazione della libido avevo provveduto da solo e seguitai a leggere così scopri che un numero ridotto di uomini che assumono trazodone sviluppa erezioni prolungate e dolorose cioè il cosiddetto priapismo questo problema poteva anche richiedere un intervento chirurgico di emergenza il quale a sua volta poteva determinare una menomazione sessuale permanente il finale però era rassicurante il rischio di overdose mortali per assunzione di trazodone era fortunatamente più basso rispetto a quello connesso all'assunzione di antidepressivi triciclici finito di leggere presi a meditare che si fa nel caso di un'erezione prolungata e dolorosa si va in ospedale tenendoselo in mano si mettono delle mutande molto comode cosa si dice al dottore qual è la menomazione sessuale permanente e ancora cosa ci vuole per un'overdose mortale di trazodone bastano due pillole bisogna farsi l'intera scatola non trovai risposte a quelle domande ma il trittico finì nel cesso insieme a tutti gli altri medicinali che mi aveva prescritto il mio psichiatra il mio ex psichiatra svuotai coscienziosamente tutte le confezioni e tirai la catena poi buttai nella spazzatura le scatole i flaconi le fiale e i foglietti illustrativi quando ebbi finito mi versai mezzo bicchiere abbondante di whisky eviti gli alcolici e misi nel videoregistratore la cassetta di momenti di gloria una delle poche che avevo portato via con me mentre cominciavano a scorrere le prime immagini accesi un amalboro eviti la nicotina almeno di sera e per la prima volta dopo molto tempo mi sentii quasi di buon umore 6 da ragazzo avevo fatto pugilato mi ci aveva portato mio nonno dopo avermi visto tornare a casa con la faccia gonfia per le botte le avevo prese da un tipo più grande e più cattivo di me avevo 14 anni ero magrissimo con il naso rosso e lucido per l'acne facevo il quarto ginnasio e avevo la convinzione che la felicità non esistesse non per me almeno la palestra era in uno scantinato umido il maestro era un signore magro sulla settantina le braccia ancora secche e muscolose la faccia di Buster Keaton era amico di mio nonno mi ricordo precisamente quando entrammo dopo aver disceso una scala stretta e male illuminata nessuno parlava e si sentivano solo i piccoli tonfi sordi dei pugni sul sacco gli schiocchi delle corde il ritmo dei punch in ball c'era un odore che non sono capace di descrivere ma lo sento nel naso adesso che scrivo e mi dai i brividi che io facessi il pugilato rimase a lungo un segreto per mia madre lo seppe solo quando a 17 anni e mezzo vinsi la medaglia d'argento ai campionati regionali juniores categoria Welter il nonno però non riuscì a vedermi su quel podio di truciolato tre mesi prima stava passeggiando in Pineta con il suo pastore tedesco quando si fermò e si sedette con calma su una panchina un ragazzo che era lì vicino disse che qualche istante dopo aveva appoggiato la testa alla spalliera in modo strano dopo aver accarezzato il cane il cane dovettero abbatterlo i carabinieri prima di potersi avvicinare al corpo di quel signore e identificarlo per Guido Guerrieri professore ordinario in pensione di storia della filosofia medievale mio nonno vinsi altre medaglie dopo quei campionati regionali anche una di bronzo ai campionati italiani universitari nei pesi medi non ho mai avuto il pugno pesante ma avevo imparato bene la tecnica ero magro e alto con le braccia più lunghe dei miei pari peso poco prima di laurearmi smisi perché il pugilato puoi farlo a lungo solo se sei un campione o se hai qualcosa da dimostrare io non ero un campione e mi sembrava di aver dimostrato quello che dovevo dimostrare dopo aver deciso di fare a meno della moderna psichiatria mi sforzai di cercare qualcosa come alternativa trovai che avevo voglia di fare appugni pensandoci mi resi conto che era stata una delle poche cose reali della mia vita l'odore del cuoio dei guantoni le botte darle e prenderle la doccia calda dopo quando ti accorgevi che per due ore nella tua testa non era passato un solo pensiero la paura quando camminavi verso il ring la paura dietro i tuoi occhi inespressivi dietro gli occhi inespressivi dell'altro saltare colpire cercare di schivare prenderle darle braccia che non riesci a tenere alte in guardia per la stanchezza respirare con la bocca pregare che finisca perché non ce la fai più voler colpire non riuscirci ti sembra pensare che non ti importa niente di vincere o perdere pur che finisca pensare che hai voglia di buttarti a terra e non lo fai non sai perché e che cosa ti tiene ancora in piedi e poi suona la campana e pensare che hai perso non te ne importa e poi l'arbitro alza il tuo braccio e capisci che hai vinto e non esiste nient'altro in quel momento nient'altro che quel momento nessuno te lo potrà togliere mai più cercai una palestra dove facessero il pugilato il vecchio scantinato di quasi 25 anni prima non esisteva più da tempo il maestro era morto consultai le pagine gialle e mi accorsi che la città era piena di palestre di arti marziali giapponesi thailandesi coreane cinesi persino vietnamite la scelta era molto vasta judo jiu-jitsu aikido karate tai boxing taekwondo tai chi chuan guin chung kendo viet vo dao il pugilato sembrava scomparso ma non mi rassegnai telefonai al comitato provinciale del CONI e chiesi se esistessero a Bari palestre dove si praticava la box l'impiegato fu gentile ed efficiente sì esistevano due società pugilistiche a Bari una era presso il nuovo stadio ospite del comune l'altra si appoggiava alla palestra di una scuola media proprio a due passi da casa mia andai a vedere e scoprì che il maestro era uno che conoscevo uno della vecchia palestra Pino ricordarmi il cognome ovviamente neanche a parlarne aveva cominciato a frequentare lo scantinato poco prima che io lasciassi era un peso massimo poca tecnica ma pugni veramente pesanti aveva fatto anche qualche incontro da professionista senza grandi risultati adesso aveva diversi lavori maestro di pugilato buttafuori nelle discoteche capo del servizio d'ordine a concerti grandi feste spettacoli era contento di vedermi certo che potevo iscrivermi ero suo ospite non se ne parlava nemmeno che pagassi che poi un avvocato può sempre servire insomma dalla settimana dopo il lunedì e il giovedì lasciavo lo studio alle sei e mezza alle sette ero in palestra e per quasi due ore facevo la box questo mi fece stare un po' meglio non bene ma un po' meglio saltavo la corda facevo flessioni addominali il sacco e facevo appugni con ragazzi vent'anni più giovani di me qualche notte riuscivo a prendere sonno da solo senza pillole qualche altra no qualche volta riuscivo perfino a dormire cinque o sei ore di seguito qualche sera uscii con degli amici e mi sentii quasi a mio agio mi veniva ancora da piangere ma meno spesso e comunque riuscivo a controllarmi continuavo a non prendere gli ascensori ma non era un grosso problema e comunque nessuno ci faceva caso passai quasi indenne attraverso le vacanze di Natale anche se un giorno forse il 29 o il 30 vidi Sara per strada in centro era con una sua amica e uno che non avevo mai visto lui poteva benissimo essere il fidanzato dell'amica o lo zio o un gay per quanto ne sapevo io però fui subito convinto che fosse il nuovo fidanzato di Sara ci salutammo con la mano dai due marciapiedi io camminai ancora qualche decina di metri e poi mi accorsi che stavo trattenendo il respiro il diaframma era bloccato sentii qualcosa come un calore salirmi da sotto fino a tutta la faccia fino alla radice dei capelli il cervello non funzionò per diversi minuti ebbi difficoltà a respirare per tutto il giorno e la notte non dormii poi passo anche quello dopo le vacanze di Natale ricominciai a lavorare un poco mi resi conto del disastro incombente sul mio studio e soprattutto sui miei clienti ignari e arrancando cercai di riprendere un minimo di controllo della situazione ricominciai a preparare i processi ricominciai ad ascoltare un poco quello che dicevano i clienti ricominciai ad ascoltare quello che diceva la mia segretaria lentamente a sbalzi come una macchina scassata il mio tempo ricominciava a muoversi grazie a tutti